Io sono andato a prendere i miei figli e alle 18.30 oggi li porterò con me a Piazza San Silvestro. Perché? Perché c'è una manifestazione per Draghi? No. C'è una manifestazione per l'Italia seria. C'è una manifestazione per l'Italia che non si arrende ai cialtronismi, ai filoputinismi, ai benaltrismi. È un'Italia che sa che cos'è la responsabilità e il dovere. È un'Italia che vuole essere rappresentata da persone decorose, che sanno stare nel mondo. Anzi, che ci fanno essere orgogliose quando vanno nel mondo. È un'Italia che ha capacità di mobilitarsi, che non sta ferma perché sa perfettamente che nessuno la rappresenterà se non ci mettiamo noi stessi in gioco. E questo lo faremo in tante città italiane, a Torino, a Milano. Non sarà una manifestazione di partito, sarà una manifestazione delle persone che si sono proprio stancate di vedere l'Italia ostaggio di gente a cui non affideremmo da gestire nulla di nostro. E soprattutto che sa che il nulla di nostro non include lo Stato, perché lo Stato è nostro, il governo è nostro, ci rappresenta e vuole andare a testa alta nel mondo. E noi per questo saremo a Piazza San Silvestro. E allora fate venire più persone possibile, girate questo messaggio, fatene di vostro, di vostri. Spiegate le vostre ragioni, perché alzarsi in piedi e combattere per quello che noi pensiamo essere giusto. C'è un'Italia seria e per bene, un'Italia che ci rende fieri. È la cosa più bella che si può fare oggi, credetemi. Ci vediamo dopo a Piazza San Silvestro.